K.2019 abbiamo l'occasione di visitare per l'ennesima volta lo stand all'ABS, l'abbiamo visto un po' in tutto il mondo, in Italia, all'estero ed eccoci qui anche in Germania, e fare due parole con Matteo Nazionale, il Business Manager della divisione plastica. Come è stato questo K.A.P. fino adesso? Ah, innanzitutto buongiorno a tutti, allora il K.A.P. è stato super sopra le aspettative, quindi siamo arrivati qui con un pochino di idea di incertezza, vediamo tutti, un mercato che sembrava essere un pochino incerto, subito i primi tre giorni ci ha completamente deluso nell'idea dell'incertezza, ma abbiamo avuto molta 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 affluenza allo stand, più delle aspettative, quindi siamo molto contenti. Bene, in effetti è un po' l'aria che si respira, essere partiti con tante domande, abbiamo avuto una risposta molto forte dalla fiera, ma come sta andando per voi in particolare e in generale secondo te il mercato della plastica? Allora, per noi il mercato delle materie plastiche o materiali avanzati, perché adesso magari sono più materiali tecnologici sta andando bene, è comunque un settore che è sempre in crescita, c'è la necessità di investire, di essere focalizzati, attenti a quello che succede nel mercato. Diciamo che la cosa che ci fa più piacere è quella di aver potuto parlare con i nostri clienti, anche non clienti, persone nuovi prospect che abbiamo incontrato qui e ci vedono un po' come una nuova alternativa, un nuovo brand all'interno di un mercato che per anni ha avuto dei player differenti, quindi oggi c'è un nuovo player, a quello siamo molto contenti. BBS nasce 50 anni fa, come abbiamo più volte detto, nel settore del legno, ha una grossa esperienza, elevata tecnologia alle spalle, abbiamo focalizzato questa energia, l'abbiamo spostata su un altro settore anticiclico forse rispetto al settore del legno, quindi l'impegno delle persone, della direzione e della proprietà ci sta portando ad avere dei buoni risultati, più che buoni risultati. Allora, attendendo di vedere dove il settore ci porterà, ma comunque con un forte ottimismo che arriva da questa fiera, vi rimandiamo alle prossime fiere, quale sarà la prossima per voi? La prossima fiera sarà il Jack Composite a Parigi, quindi il settore aerospace. Ok, perfetto, e vi rimandiamo tutti anche al sito della BBS, che è? www.bs.com e invitiamo tutti a visitare i nostri campus in giro per il mondo, in oltre 39 paesi, dove possiamo mostrare le tecnologie e possono conoscere BBS. Noi diciamo, live the experience. Let's live this experience and stay tuned. A presto!